Niente panico. Devo trovare un'auto usata. Diesel. Digito. Auto usata. Diesel. Eh? No, vabbè, ma sono 800 siti. No, non ce la farò mai. Auto super market? Mi sembra di capire che... Mi sembra di capire che... Dicevo, mi sembra di capire che hai bisogno d'aiuto. Mi senti? Sì, sì, non serve che strilli. Scusa. Quello che ti consiglio è... Mi fai solletico. Quello che ti consiglio è di sfogliare le pagine di autosupermarket.it. Puoi farlo anche sul web. Ah, hai detto autosupermarket.it. Sì, un portale efficiente e veloce che raccoglie annunci su moltissime auto usate. Aspetta, stai lì, eh? Aiutami. Ricerca veicolo. Stato usato, marca tutte, modello tutti, bè. Hanno, mh, prezzo, direi 15.000 massimo perché... Kilometri, tu cosa dici? 100.000. 100.000. Alimentazione diesel, regione tutte. Mh, sconsigliato. Perché? Vorrei pur prendere visione dell'auto che vai a comprare. Ti consiglio di partire dalla tua regione di residenza. Hai ragione. Aspetta, Lombardia. Cerca. Ok, ora fatti un'idea del prezzo. E tieni presente che è comunque trattabile. Ah, quello che qui vedo è trattabile rispetto a cosa? Beh, guarda, potresti far leva sull'eventuale usura degli interni, ammaccatore, che so, anche sul colore. Ah, sul colore. Intendi dire che se scelgo un colore che hanno tutti mi costerà di meno? No, cara mia, è proprio contrario. Un colore particolare potrebbe essere un ulteriore elemento di sconto. Che so, anche il cambio. Il cambio automatico in Italia, sai, non è poi così tanto diffuso. Ah, fantastico. E della tua auto cosa pensi di fare? Boh, dovrà buttarla? Ma perché non sfrutti l'apposita sezione su autosupermarket.it? Con qualche foto e i dati principali della tua vettura puoi metterla subito in vendita. Ma registrazione annuncio online gratis in meno di 5 minuti, quindi vendo la mia benzina e compro un usato diesel fantastico. Ma senti, aspetta, ok, io adesso scelgo due o tre macchine che mi piacciono. Vado a vederle, ma una volta che sono lì non è che io posso aprire il cofano e capire veramente se la macchina è in buono stato. Beh, quello che potresti fare, visto che non hai molte competenze tecniche, è quantomeno consultare il libretto di circolazione. In che senso? Beh, se l'auto ha avuto molti proprietari in breve tempo, evidentemente è un'auto che potrebbe dare problemi. Meglio evitare. Però se proprio vuoi una via senza pensieri, posso consigliarti un servizio di Bosch, che attraverso la propria rete Bosch Car Service ti permette di certificare lo stato della tua vettura e la presenza di eventuali problemi. Ti faccio vedere un video di Bosch che spiega chiaramente come funziona questo tipo di consulenza. Devi comprare un'auto usata? Paura che sia un pacco? Devi vendere l'auto? Qual è il giusto prezzo? Per te c'è usato Smile di Bosch Car Service. Un certificato di qualità che permette di conoscere il reale stato dell'auto. Oltre 200 controlli e un test su strada per dare il giusto valore al tuo usato. E una garanzia in più per chi vuole acquistare senza sorprese. Al prezzo lancio di 59,90 euro, IVA inclusa. Se vuoi vendere o acquistare un'auto usata al giusto prezzo, fallo con il sorriso. Usato Smile Bosch Car Service. Ma... ma così sono in una botte di ferro! Sono felice di averti aiutata! Sei diventato il mio migliore amico! Dai, sono fidanzato! Ma che importa? Visto che sei così utile, verrai con me a vedere le mie auto.